Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Oggi siamo qui sulla seconda parte per sbloccare Mico su 30 account Ieri ne abbiamo aperti ben 12 Quindi oggi ne apriremo 8 Perché poi domani faremo la terza e ultima parte Per sbloccare negli ultimi 10 account Per completare quindi questi 30 account E qui sblocco Mico Quindi nella prima attenzione vi ricordo una bella iscrizione E campanella per non perdervi nessun video Quindi andiamo direttamente nell'account Ok siamo sull'account Marco Vediamo un po' Perché oggi visto che è un nuovo giorno Devo pure riscuotere il regalo di oggi Che è uscito Che dovrebbe essere il graffito di Mico Dovrebbe essere Se non mi sbaglio Così almeno Cioè regà guardate quanto lagga Incredibile prova Andiamoci per il quarto giorno Comunque regà preparatevi perché ho visto il calendario Che ci sarà questa settimana Anzi queste due settimane Preparatevi perché uscirà un video epico Nelle feste natalizie Adesso siamo sull'account GXDRAX Eh qua devo prendere il giorno 1 In che senso Cioè qua vuol dire seriamente che Ok Ok Dai prendiamoci Muoviamoci Ok E niente Continuo a laggare le gare Ne devi conto Vabbè PIN Ci prendetevi conto Rai quanto sta laggando C'è una cosa incredibile Ok Prendiamoci anche il quarto giorno Così Stiamo a posto Ok Ok Andiamo al prossimo account Prendiamo il prossimo account Andiamo al prossimo account Ok ragazzi Ci siamo Siamo sul terzo account Di questo video Che è MZMZ Speriamo che ho preso I primi due giorni Ok Meno male Che se no Già qua ci mettiamo mezz'ora Soltanto a sbloccare Il nuovo brawler Figuriamoci a prendere Tutte le altre ricompense Cioè guardate Continuo a laggare È incredibile Cioè incredibile Veramente Ok Ok Andiamo su questo account Ok ragazzi Adesso siamo sull'account Alessandro Ho fatto da sbloccare Energetico Ok Ci metto sempre Trent'anni per caricare Ok Cioè riga Incredibile proprio Quanto laggi C'è Ok Siamo sull'account GGG Incredibile Però qua c'è Il baddose Bloccare energetico Non male Che è diventato Pure leggendario Con questo Hanno rimasso I degli gromatici E niente Andiamoci a prendere Questo Il grano Ok riprendiamoci pure quali cosa vuol dire che adesso siamo sulla contini andiamoci prima questo e questo direttamente terzo giorno sempre tanto pure per sbloccare il graffito raga lasciamo a perdere ok raga adesso siamo sull'account doraemon e dmvn ho già sbloccato il premio prima di continuare il video ok lasciamo perdere prendiamo questo terzo giorno sembra se riusciremo fino alla fine del video ok ok ragazzi siamo sull'ultimo account di questo video cioè se l'ottavo quindi siamo qua sull'account edgar andiamo terzo giorno 30 anni ci vuole sempre ci rendete conto che quando brustars andava benissimo quando si sentiva il rumore di quando usciva un brawler cioè si sentiva pure che si sbloccava diciamo la canzoncina della rarità di quel brawler cos'è qua meno 37 ok quindi raga che dire spero che questo video vi sia piaciuto lasciando il like ne ci diamo domani con gli ultimi 10 account bella raga ciao 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 ciao